Ciao ragazzi da Botanica Urbana, oggi vi mostro il funzionamento di un umidificatore a ultrasuoni, in questo caso un Iron Tech, con un serbatoio da 2 litri con consumo da 25 litri. Alla scatola troviamo il pennello per la pochizia e il manuale di istruzione italiano. Il nostro umidificatore è composto da il boccaio per il vapore, il serbatoio, la tante che ha da 2 litri e la sua base. Andiamo a vedere la base, qui abbiamo un piccolo pulsante che serve per accendere un led che può rimanere molto utile per vedere il livello dell'acqua durante la notte. Questo è il regolatore di intensità di vapore, come vedete qui c'è anche il led che in stato rosso indica il non funzionamento e in verde invece è attivo. Dietro la base possiamo vedere anche la presenza di un piccolo strumento per la pulizia, basta ruotarlo, ruotarlo, eccolo qui. Andiamo a fare una prova dimostrativa per vedere il funzionamento del nostro umidificatore. Prendiamo il nostro serbatoio dove è presente la valgola di un ritorno, in questo caso io ho solamente un litro d'acqua per fare la prova, voi giustamente riempite il serbatoio con 2 litri. Andiamo a chiudere per bene e come vedete la valvo di un ritorno non fa cadere l'acqua. Fate attenzione nel sistemare nella sede il serbatoio, mettete il boccaio, adesso come potete vedere il led sarà verde. Il nostro umidificatore sta iniziando a produrre il vapore dell'intensità desiderata. Spero questo video vi sia rimasto utile, questo umidificatore lo potete trovare in tutti quanti i Botanico Urbana d'Italia. Un saluto a Botanico Urbana e bella per tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.